Fa così, così fa così MB youtube Ma converassi, mandi guadagni a fare e so' un cazzo fai su i soldi io quando vedo quelli subito Guardo due secondi e dgunto, chu mi ha fatto Sì, ma guarda che magari guadagni anche, magari a pochi centesimi, però magari guadagno. Sì, ma la gente che si mette lì a... Cioè, uno che si mette lì mezz'ora a vedere questo qua, che continua a fare... Perché non cazzo che fa, non c'è niente fa, non c'è niente fa... Sì, ma anche a me che non c'è niente fa, ma sinceramente... Sì, ma lo fanno per i soldi, per guadagnare, magari qualche centesimo guadagnano, però... Però hanno 300 persone dentro. Eh, 300 persone, poi fanno i regali... Non so cosa regalano. Quello di Tox, sì. Su di Tox, 6 centesimi. Perché qualcuno... Ma di Tox non mi ha donato le rose. Eh, non lo so, eh, dipende, dipende, non lo so. Non lo so. E anche qua guadagni tanto, però, qualcosina... Quali centesimi anche qua, eh. Sì, però... Ieri ho preso 35 centesimi. Ieri erano 73 euro, oggi sono 3,35. Sono nelle pubblicità quelle. Incagate. Entrate, ragazzi, entrate. Ma di dove sei dell'Umbria? Vincibaldi. Vincibaldi. 19 persone. Entrate, ragazzi, e non fate le spie bugie. Scrivete, scrivete. Perché qua c'è uno che scrive 18 spie bugie. 22! Eh... Io sono quello... Io sono il poliziotto dalla chat. Esatto. Quello che controlla i profili. È arrivato AXON TV. Hello! Hello! Where are you from? In inglese. Where are you from? Please. Più bello in due fare la diretta. Io sono quello che controlla le foto dei profili su Google. Esatto. Lui ha sgamato Ramona... Ramona si chiama? Ramona, sì. Ramona e... Hilary. Avevano due profili di due fotomodelle, ma... Lui... Lui... Ma non erano loro. Io ci sarei cascato, di la verità. Invece Super Marco Ippo è dato a indagare. Perché Google ha una funzione, eh? Bravo, video. Quando apri il browser, c'è... Quando c'è il motore di ricerca, in parte c'è... Un'iconetta con scritto che esamina la foto. C'è un'iconetta che tu la schiacci, tu gli metti dentro la foto. Come hai fatto a mettere la foto? Ho fatto uno screenshot. Ah, hai fatto lo screenshot, ok. Della chat, l'ho allargata e ho preso quella foto lì... Ah, puoi metti dentro la foto. Metti dentro la foto. Oltre alla lente di guardare. Sì, lui metti dentro la foto, lui ti dice se è stata presa da... Ciao Fatmir, l'albanese! Certo che mi ricordo, l'albanese, bravo! Sì, se è stata usata magari da... E' stata presa da internet. Sì, hai il Mir? In albanese. Come stai? Mir, Mir? Bene, bene? Fatmir. Ma sei in Albania? Adesso sei in Italia. 23 persone. Entrate, ragazzi. Entrate, dai! Mir, Mir! Vedi? Dice Mir, Mir! Bene, bene! Entrate, raccomando, donate, donate, eh! Donate e iscrivetevi! Donate, donate, donate! Donate, donate! Lui ha già donato, eh! Ha pagato il caffè, lui, eh! Ha già donato un euro e venti centesimi, lui. Ha già donato stamattina. Oggi sono il suo autista. Oggi il mio autista, ho l'autista personale. Dov'è che abiti Fatmir in Italia? Dov'è che abiti Fatmir in Italia? Dov'è? Sabato mette... Primo agosto vado in Albania. Bravo! Ma dove vai in Albania? Sabato mette il... Un maxi schermo lì dove eravamo seduti noi di fronte. Ficata! Ficata! E fa vedere la partita. Ficata! 28 persone! Poi la gente che non ha niente da fare, la gente per entrare in diretta... Eh, ma poi l'abbiamo visitato ieri. Il venerdì è in diretta. È proprio in caso del fa che... No, quando lavoro me ne scorderò. Questa è live. Sai quando lavorerai? Che dirai caso? Si andrà al palco a fare live il venerdì? No. Non so su che fai quale. Ma dipende. No, io ho tanto da fare. Sto progettando una macchina... Oggi siamo al parchetto dei Drogati. Di Mairano. Il parco dei Fusi. Siamo a Mairano oggi. Mairano provincia di Brescia. Abbiamo 21 persone. Ciao Manuel Russo. Ma tu russi di notte? Super Manuel Russo. Dove sei Manuel Russo? Mattia Gianni. Ehi Gianni, dove vieni? Beh devi stare lì dietro a tutti, devi leggerli tutti. Ma il problema è che io volevo fare la questa... Ma c'è un metodo, eh? Di riuscire a fare... Ah, forse è petta però. Forse magari c'è un'impostazione. No, condividi no. Il sondaggio... Ma secondo me c'è la possibilità di allargarlo o qualcosa? No, no. Fa un cazzo. No, no. Questo... Vedi questo... Moderazione della community. Filtri chat. Vedi? Tornai un attimo in cose. Vedi? Tutti i messaggi principali. Tutti i messaggi. Vediamo. Che fate? Siamo al parco. Questa è quella della musica della fanno.